Ciao a tutti da Zio Frank, oggi ci hanno regalato questo sabato di sole a novembre e fa anche calduccio quindi volevo proporre un video che sicuramente interesserà a molti praticamente parliamo di difesa abitativa o più o meno uno sparo in casa su dei muri tradizionali l'effetto che possono avere i calibri da noi maggiormente utilizzati o comunque che il maggior numero delle persone hanno a casa questo è un muro in pannelli Sivorex mentre questo è un muro in gesso che dentro praticamente è vuoto i calibri che oggi useremo sono il 9 mm che più o meno tutti i tiratori hanno in casa con un colpo blindato e una 357 utilizzata sia con il suo calibro 357 che con il 38 special ciao a tutti ragazzi oggi farò la prova sulla muratura tradizionale che abbiamo nelle case per vedere gli effetti che fanno la 9 mm la 357 magnum e la 38 special però portano anche questa signorina che alla fine tireremo due colpi giusto così per gradire e vedere gli effetti anche di questa ragazzi vi chiedo una cortesia abbonatevi al mio canale anche per sovvenzionare tutti questi video che sto girando e comunque purtroppo ci servono i dindi per girarli grazie mille procediamo con la prova eccoci ragazzi cominciamo il video il calduccio è finito sta accendendo il sole quindi va abbastanza fresco allora cominciamo dalla 9 mm mi sono tenuto ad una distanza di circa 8 metri 8 metri dal bersaglio in quanto le camere spesso sono anche molto più piccole quindi vediamo in che reazione hanno i nostri tramezzi anche se so che questa non è proprio veritiera come prova in quanto il tramezzo per intero fa una forza diversa sicuramente da una piccola porzione quindi partiamo con la 9 mm e vediamo cosa è in grado di fare comunque su un muro di casa si può vedere anche dalle immagini riprese da dietro sono stati forati esattamente bisognerebbe mettere un gel balistico dietro per vedere l'effetto che magari fa su una persona comunque questi sono murature che maggiormente abbiamo per la casa allora partiamo ora con la 357 con il suo calibro e dopo proveremo la 38 special 357 magnum anche essa ha completamente furato i pannelli andiamo con una 38 special e anche la 38 special riesce a furare il pannello allora visto che tutti e tre forano il pannello cerchiamo di capire la potenza del foro visto che non è il gel balistico con magari una piastra in ferro per vedere per cercare di capire quanta potenza può avere il colpo in uscita partiamo con il pannello in gesso con la 9 mm come potete vedere questo è il risultato ecco la palla da 9 mm risulta molto deformata al contatto con la piastra 357 magnum la piastra è caduta la piastra praticamente è caduta ma non riesco a trovare la palla è caduta la piastra ma la palla non sono riuscita a trovarla quella del 57 ora andiamo a trovare la 38 passiamo alla 9 mm ma con il pannello in Sivorex cioè quello di uno ok ecco i pezzi della palla da 9 mm che a quanto pare sembra molto meno efficace però ha avuto molta meno resistenza in quanto stavolta è riuscito a far cadere la piastra proviamo nuovamente testiamo la 357 niente la palla schizza fuori andiamo ora con la 38 special palla della 38 quasi totalmente bloccata dal pannello questa dovrebbe essere la palla della 38 quasi totalmente bloccata proviamo due colpi con la 38 perché dovrebbe essersi bloccata proprio la palla ecco le due palle della 38 special perché riescono malapena a superare il blocco praticamente ecco le altre due palle della 38 special sono curioso di provare la 9 mm magari ho stretto meglio la lamiera e riesca a riprovare i colpi no niente la 9 mm praticamente si distrugge la palla da 9 mm riproviamo la 357 niente anche la palla della 357 a destra a sinistra se ne va nulla ora invece cerchiamo di vedere se riesce a superare tutti i due i pezzi di muratura vediamo ora con due pezzi di muratura cosa succede la palla da 9 mm comunque riesce a furare tutti e due i tramezzi anche se poi non ritrovo effettivamente la palla ma il tramezzo è bucato anche dalla parte opposta proviamo la 357 attenzione la 357 non è riuscita a furare entrambi i tramezzi ho fatto la palla e la rimasso da dentro questa non me l'aspettavo sinceramente che la 9 penetrassi e la 357 si fermasse la palla della 357 povere armi le sto riempendo di calcinaccio praticamente proviamo con la 38 special alziamo un po' il tiro non penso che la 38 special sia riuscita a furare il muro in quanto non vedo altri fuori ma la palla non la vedo sinceramente proviamo qualche colpo di 38 special perché non riesco a trovare la palla ma non riesce a furare il secondo muro comunque praticamente fa svincolare la palla qualcosa è entrato no vieni a vedere una delle palle si è bloccata addirittura in mezzo al tramezzo non ho avuto la forza di uscire comunque l'energia che sprigiona la 38 non è moltissima questa della 38 non è riuscita neanche a furare proviamo tre colpi a calibro in slow motion però tra muro e muro vediamo cosa succede ok 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 un'altra palla del 357 ecco le palle guardate guardate comunque due tramezzi fermano quasi tutto tre colpi in 38 special poi passiamo a una cannonata in conclusione il miglior calibro è sicuramente il 38 special da usare nel tuo caso per finire il quadro completo tiriamo gli due colpi di 500 smith e wesson visto che i tramezzi ancora sono in piedi un po' il verone ragazzi andiamo a vedere cosa è successo non penso che si trovi la pallarella 500 comunque fa troppi danni e va su delle murature anche già lesionate che dire comunque il 38 special a livello di danni in casa forse è il calibro migliore bisognerebbe provare anche un 7,659 corto e comunque sono calibri che a fermare rifermano ma cominciano a essere calibri con alto potere di arresto grazie a tutti per seguirmi e mi raccomando abbonatevi perché comunque mi permetterete di fare prove migliori di queste e mi stimolate sempre a fare meglio magari la prossima volta porterò anche un manichino balistico grazie a tutti ciao da zio frank